Secondo i dati di Istat, il 35% delle donne nel mondo ha subito una violenza fisica o sessuale, mentre in Italia sono poco meno di 7 milioni le donne toccate da episodi di violenza nel corso della propria vita, il 31% delle quali in età compresa tra i 16 e i 60 anni. Numeri che restituiscono la portata del fenomeno sociale che nelle forme più gravi ed estreme, purtroppo molto frequenti, sfocia nel cosiddetto femminicidio. A Pescara, nella sala di nozzi della provincia, l'UGL ha organizzato un convegno che rientra nell'attività più ampia del sindacato denominata Mai Più Sola, a cui hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine e del sindacato. Molto è stato fatto per arginare il problema, si è detto, soprattutto sotto il profilo degli strumenti in mano alle forze di polizia, ma ancora tanto resta da fare specialmente dal punto di vista culturale. Sempre i dati, infatti, dicono che solo il 12% delle donne vittime di violenza decidono di denunciare, molto spesso superando sentimenti come la paura e la vergogna. Anche perché la matrice della violenza molto spesso deriva dal retaggio culturale della disuguaglianza tra uomo e donna, oppure dalla ossessione del possesso. Quasi sempre, infatti, i femminicidi avvengono al culmine di una escalation di violenza all'interno del nucleo familiare, il luogo che dovrebbe essere fonte di protezione e di sicurezza. Troppo spesso si trasforma in una trappola mortale. Nel 60% dei casi, il partner è l'autore dei reati che si scrivono a vario titolo sotto il nome di femminicidio. Noi offriamo dei servizi rendendo consapevoli che le donne soggette a violenza di ogni genere possono soffrire di particolari servizi che noi diamo gratuitamente. I centri antiviolenza, purtroppo, la loro esiguità numerica è dovuta anche a una mancanza di fondi. Noi qui abbiamo sulla nostra città il Centro Annanche che fa tanto. Oggi non sono potuti intervenire proprio perché hanno tanto lavoro e le donne da aiutare sono prioritarie rispetto al convegno. Per cui sentiamo anche la necessità di attenzionare meglio fasce di popolazione a tutti i livelli perché bisognerebbe cominciare a educarli da ragazzi.